Sottile, partiamo da un dato oggettivo, sei arrivato da poco e a Crotone è subito scavalcato le gerarchie perché Pilon ti ha messo in campo. Insomma, motivo di orgoglio per te? No, no, sono felicissimo del mio debutto con la maglia del Pescara, è arrivato in questa partita che mi ha fatto col Crotone. Adesso bisogna lavorare, continuare su questa strada per far sì che questi eventi si ripetano. Ti abbiamo visto un po' zoppicanti in mix zona Crotone e infatti in campo non sei riuscito a dare il 100% tutto che è adesso? No, ho avuto un risentimento nello scatto quando ho rubato la palla a Spolli ma per fortuna niente. Quindi sei a disposizione per la partita con il Pescara? Assolutamente sì. Cosa ti aspetti da questo finale di stagione con il Pescara? Beh, mi aspetto un finale di stagione entusiasmante, spero con grande soddisfazione che quella nella nostra promozione che sia diretta dai playoff. Il nostro obiettivo comunque è quello di lavorare per poter realizzare questo sogno e ce la metteremo tutta fino all'ultimo partito. Le tue caratteristiche, perché adesso con il 4-3-1-2 ti senti più adatto a giocare dietro le due punte o puoi fare tranquillamente la seconda punta? No, guarda io in questo modulo posso fare sia il trequartista che una delle due punte. L'ho fatta in passato e quindi le posso fare benissimo. Cosa ti ha detto papà di questa esperienza a Pescara? Papà è contento, è una scelta che abbiamo condiviso insieme. Lui ha appena sentito Pescara, che è comunque una piazza molto importante, che ha sempre fatto giocare i giovani, ma ha detto che sarei andato là per giocare le mie carte e dare il meglio di me stesso.